Malgrado un traffico da bollino rosso e il tempo incerto, le vacanze pasquali evidenziano i primi dati di ripresa del turismo. Secondo Federalberghi sono 9 milioni e 200 mila gli italiani che vanno in vacanza per Pasqua. Nel 2009 erano stati 8 milioni e mezzo. I turisti sono aumentati dell'8 per cento rispetto all'anno scorso e parallelamente è cresciuto anche il giro d'affari. La spesa media pro capite comprensiva per trasporti, cibo, alloggio e divertimenti passa infatti da 291 euro a 305. A questi segnali positivi si deve aggiungere il trend favorevole dei flussi turistici stranieri in Italia. Stando ad un'indagine condotta dall'Enit, la vendita di pacchetti turistici verso il bel paese è cresciuta in Europa specialmente in Spagna, Polonia, Ungheria e Austria. In aumento anche i turisti extraeuropei che scelgono la penisola. I maggiori incrementi arrivano da Australia, Brasile, Canada e Stati Uniti ma anche da India e Corea del Sud. Gli italiani che non escono dai confini nazionali ma che vanno fuori porta preferiscono il mare alla montagna. Poi nelle loro preferenze ci sono le città d'arte che precedono laghi e località termali. Marco Melegaro, Sky TG24